Ciao a tutti qua come sempre Gianni crack Nuovo video Nuovo video Esatto, nuovo video Ok mi sono messo dentro in casa perché Se non avevo tipo fuori c'era la gente che mi guardava male Comunque oggi volevo parlare di video su YouTube Chi io? Sui video su Facebook Sapete quei video tipo Come mi fanno le cose normali Come le faccio io Ecco E quindi oggi volevo fare una compilation di cose così che invento io Come bevono le persone normali Come bevo io E le persone normali fanno la cartella Come invece la faccio io Come le persone normali parlano ai loro gatti Ciao piccolino Ciao Come invece parlo io ai miei gatti Come cantano le persone normali Come cantano le persone normali Come invece canto io Come invece canto io Come le persone normali si preparano per andare a prendere la pagella a fine anno Dai su Andrà tutto bene Ma vabbè E allora l'anno prossimo Andrà bene Andrà bene Come invece mi preparo io Ok posso andare Allora